Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione ampia alla pagina di Cronaca. Iniziamo parlando di due incidenti sul lavoro avvenuti nel retino a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Il primo è avvenuto ai confini con l'Emilia Romagna nella frazione di Caraffaello, esclave a retina geograficamente contenuta in provincia di Rimini. L'incidente pare sia avvenuto nel cantiere del metanodotto ai confini tra le province di Rimini e Arezzo. Un operaio di 56 anni stava manovrando un escavatore quando per causa in corso di accertamento il mezzo si è rovesciato rotolando nella scarpata. L'operaio sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cesena in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Un altro incidente sul lavoro è accaduto invece in un'azienda agricola di Camucia, sempre nella retino. Il 118 dell'ASL Toscana Sud-Est è stato attivato alle 12 per soccorrere un uomo di 67 anni ferito in seguito di una caduta dall'alto presso l'azienda agricola. Sul posto l'ambulanza infermieristica di Cortona, l'elisoccorso Pegaso 1, il PILS, la prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro dell'ASL e le forze dell'ordine. L'uomo è stato trasportato in codice rosso alle scotte di Siena ma anche per lui sembra non in pericolo di vita. Ed Arezzo c'è stata ancora una tentata truffa con la tecnica dello specchietto ma l'anziana presa di mira è stata scaltra. Ci racconta come è andata la nipote. Vediamo. Di stare attenti, di fare come ha fatto mia nonna, quindi nel momento del bisogno di chiamare. Qualsiasi persona sia, che sia un amico, il primo numero che viene in mente, chiamatelo perché è importante. A mettere in guardia altre potenziali vittime è la nipote di un 81enne a retina che fortunatamente è riuscita a non cadere nella truffa dello specchietto. Si tratta di un raggiro ormai frequentissimo che ha per vittime gli automobilisti ai quali gli impostori chiedono denaro per riparare un presunto danno causato all'auto dello stesso truffatore, anche se in realtà l'incidente non è mai avvenuto. L'anziana si trovava nel parcheggio di un supermercato quando le si è affiancata un'auto grigia, all'interno un uomo che non è mai sceso dalla vettura. Mia nonna già soffre di un abbassamento di udito, quindi diciamo che questa persona sicuramente l'aveva già d'occhiata. Fatto sta che compare sulla macchina di mia nonna un segno nero, cosa che mia nonna non ha sentito nessun tipo di voto né nulla. E quindi questa persona gli dice guarda che tu me l'hai rotto perché c'è questa strisciata, poi gli dice tranquilla tanto va via. Al che questa persona fa un giro di chiamate alquanto strane perché prima diceva di chiamare il concessionario e poi il meccanico. e dicendo quindi che la rottura di questo specchietto sarebbe costata sui 500 euro, poi siamo passati a 350 e al che mia nonna rimane un attimo sbalordita di questa cosa. E niente, lui gli dice vabbè se non c'è questi 350 euro perché mia nonna ovviamente dice non li ho, devo prendere la carta. A questo punto l'anziana ha deciso di prelevare il denaro chiesto dal truffatore. Poi per fortuna ha pensato che potesse essere una truffa quindi questi soldi grazie a Dio sono rimasti a lei. L'81enne fortunatamente è riuscita ad allontanarsi e a chiamare i familiari per farsi aiutare e anche caduta mentre tentava di raggiungere la sua auto. Si è fatta un po' male però ringraziando Dio sta bene. Questa persona poi abbiamo fatto il giro, siamo andati a denunciarlo ai carabinieri. A quanto pare anche vedendo sul post che ha messo su Facebook sembra che a qualcun altro sia successo purtroppo. E' comunque un uomo con i capelli neri e baffi, di carnagione comunque chiara. La macchina era più o meno quanto una Golf metallizzata grigia e diciamo la cosa peculiare se così possiamo dire è l'accento meridionale. Cronaca giudiziaria, una condanna in rito abbreviato a 5 anni e 8 mesi e 4.600 euro di multa e all'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni per un imprenditore accusato di associazione per delinquere, illecita concorrenza con minacce e distorsione, 10 persone invece rinviate a giudizio. E' quanto ha deciso il GIP di Firenze Fabio Gugliotta al processo Cheu relativo ai presunti condizionamenti sugli appalti pubblici. Caduta invece l'aggravante del metodo mafioso. Era stata di 8 anni la richiesta di condanna del PM Lorenzo Gestri ma è stata ridotta per il venir meno dell'aggravante del metodo mafioso. Rinviati a giudizio altri 10 imputati, un gruppo ampio che comprende imprenditori, politici, dirigenti pubblici, alcuni dei quali residenti nell'aretino. Anche per tutti loro la circostanza aggravante del metodo mafioso è venuta meno. Si aprirà quindi a gennaio il processo che si terrà al Tribunale di Pisa. E torniamo ad Arezzo perché c'è stato panico questo pomeriggio in centro quando un giovane ancora non identificato in evidente stato confusionale e di agitazione si è messo a saltare danneggiandole su alcune auto parcheggiate lungo viale Michelangelo. Circa una decina le auto in sosta danneggiate, alcune con il parabrezza spaccato. Il giovane stava scappando dai sanitari dell'emergenza urgenza del 118 che erano intervenuti perché nella zona della stazione stava dando in escandescenza. Sul posto anche le forze dell'ordine che sono accorse con una pattuglia della Polizia Municipale insieme al personale del 118. Non è stato facile per i soccorritori e gli agenti riuscire a fermarlo tanto che il giovane si è procurato anche delle ferite lanciandosi di testa da uno delle auto dove era assalito. È stato soccorso e portato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. E si terrà nella giornata di domani l'autopsia sul corpo di Maurizio Lovari, l'imprenditore cortonese di 72 anni, morto sabato scorso in sella alla sua bicicletta a Passignano sul Trasimeno. Stamattina di fronte alle parti il magistrato di turno è stato conferito l'incarico per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali. La famiglia di Lovari è assistita dall'avvocato Michele Nannarone. L'esame dovrebbe chiarire definitivamente se la vittima possa essere stata accolta da malore poco prima dell'impatto. Elementi fondamentali per definire le circostanze del decesso. Solo ad esame effettuato si potrà sapere quando la salma sarà restituita alla famiglia che potrà così organizzare i funerali religiosi che saranno celebrati nella piccola chiesetta di Ossai, alla frazione cortonese, dove Lovari viveva da sempre con la famiglia e alla quale era legatissimo. La morte di Lovari ha scosso l'intera comunità cortonese che lo conosceva e apprezzava per le sue innumerevoli iniziative culturali e sportive. E torniamo a parlare dell'antenna della discordia che dovrebbe essere installata in Via Sicilia ad Arezzo. Domani è in programma il nuovo sit-in del Comitato Cittadini. Vediamo. Un sit-in pacifico ma che rimarca la ferma volontà dei residenti di Via Sicilia ad Arezzo, quella di dire no all'installazione di un'antenna della telefonia. Gli operai, dopo il montaggio del palo nei mesi scorsi, sono tornati sul sito a lavorare e la preoccupazione dei residenti è che l'antenna presto possa venire accesa. Il Comitato dei Cittadini, sorto proprio per stoppare i lavori, chiede con forza al Comune di Arezzo di poter fermare questa installazione e giovedì 26 settembre alle 17.30 si ritroveranno in strada in una riunione sit-in pacifico per invitare ancora una volta l'amministrazione comunale a fare qualcosa. In particolare, si chiede di sospendere tutto fino a che almeno non sia terminato il procedimento di autotutela che deve stabilire se l'autorizzazione per quell'antenna è corretta oppure no. Dello scorso 19 settembre, una nota congiunta proprio di Lucia Tanti, vice-sindaco di Arezzo e dell'assessore Francesca Luccherini. Il procedimento di autotutela riguardo l'antenna, affermava Lucia Tanti, è in corso, siamo in attesa quindi di completare se avrà esito positivo. Mi preme sottolineare che le verifiche del caso, per norma, sono affidate ad un organo terzo estraneo alla politica. Non è un mistero, prosegue Lucia Tanti, per nessuno che sono stata tra coloro i quali hanno ritenuto opportuno dare il via al procedimento di autotutela. L'assessore Francesca Luccherini si era invece espressa sul piano antenne. Mi preme sottolineare, aveva detto che il piano in corso di redazione non è fermo, ma è attualmente al procedimento obbligatorio di VAS, valutazione ambientale strategica, fondamentale strumento di supporto nel processo decisionale che caratterizza il documento. Una volta conclusa questa fase, diceva Luccherini, seguirà una parte partecipativa con la cittadinanza prima del passaggio in Consiglio Comunale. E domenica 29 settembre dalle 9 alle 18.30 ci sarà la prima edizione del mercatino del Calcit dei ragazzi a Castiglion-Filbocchi presso il polo scolastico Ugo Nofri. In concomitanza le donne del laboratorio Maglia della Proloco stenderanno in collaborazione con il gruppo Mani e Cuore per il Calcit circa 500 coperte che renderanno le gradinate coloratissime. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Castiglion-Filbocchi, la preziosa collaborazione dell'Istituto Comprensivo Vasari, della Proloco UMPLI, delle donne del laboratorio Maglia ed è prevista anche la partecipazione di tutte le associazioni del Paese. Il ricavato sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure oncologiche del servizio scudo. E le cinque tavole del politico di Pietro Lorenzetti, il capolavoro conservato nella pieve di Santa Maria di Arezzo sono partite alla volta di New York, verranno esposte al Metropolitan Museum of Art di New York all'interno della grande mostra dedicata alla pittura assenese del Trecento. Dal 13 ottobre al 26 gennaio prossimo l'opera, restituita nel 2020 al suo originario splendore dopo sei anni di restauro, figurerà tra i massimi capolavori dell'arte pittorica trecentesca. La presenza al MET del politico di Lorenzetti, afferma il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, rappresenta una prestigiosa conferma della rilevanza che ad Arezzo viene riconosciuta come città d'arte e cultura. Mi sono impegnato in prima persona dopo l'incontro a New York lo scorso dicembre con la vice direttrice per far sì che il complesso ITER che caratterizza i prestiti delle opere d'arte avesse il miglior esito. Ringrazio il soprintendente Nannetti per la fattiva collaborazione e la disponibilità dimostrata. Parliamo ora di energia e del servizio elettrico a tutele graduali. La società ERA apre uno sportello ad Arezzo. È molto importante essere presenti sul territorio. Dal primo luglio su Arezzo abbiamo vinto la gara delle tutele graduali e quindi 20.000 famiglie sono entrate in fornitura con ERACOM e proprio per questo abbiamo deciso già dal primo luglio di essere presenti qui. Un punto di riferimento per le famiglie aretine a cui dallo scorso primo luglio ERACOM ha iniziato a fornire energia elettrica sul mercato a tutele graduali. È stato così inaugurato lo sportello clienti in via Petrarca 2 ad Arezzo. L'acquirente unico ha definito dei lotti in tutta Italia per questi clienti definiti non vulnerabili e sono stati assegnati questi lotti su gara e quindi per tre anni i clienti potranno soffruire ancora di un prezzo che è stato il prezzo definito dalla gara per poi passare al mercato libero. Il mercato libero il cliente può decidere di entrarci in qualsiasi momento ha ancora questi tre anni insomma di servizio di tutele graduali che appunto per Arezzo è gestito da ERACOM. Il passaggio è stato automatico sicuramente senza soluzione di continuità il cliente non deve fare assolutamente niente però il negozio è per noi l'opportunità di dare anche informazioni a quei clienti che sicuramente non avevano magari fatto una scelta del mercato libero quindi sono magari fermi da anni nel vecchio servizio tutelato e se hanno bisogno vedendosi cambiare la bolletta e magari non erano informati, magari non hanno seguito troppo se hanno bisogno ci trovano qui, hanno tutte le possibilità di informarsi e anche magari la possibilità di valutare cosa propone il mercato libero. Il nuovo servizio accompagnerà i cittadini e fornirà anche supporto per soluzioni di efficienza energetica e decarbonizzazione dei consumi. Il mercato libero diciamo consente di aggiungere delle caratteristiche all'offerta di energia faccio un esempio, una su tutte, è quella di poter scegliere un'energia verde da fonti rinnovabili cosa che invece nel servizio di tutele graduali non c'è ma anche altre caratteristiche come la monoraria oppure la possibilità di scegliere un prezzo fisso. Lo sportello Era di Arezzo sarà aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Un servizio importante che con oggi ha questa nuova sede finalmente inaugurata e che sarà un servizio di prossimità per i clienti, i cittadini di Arezzo che avranno un punto fisico dove rivolgerci. Sappiamo quanto a oggi la tecnologia e l'informatica vanno avanti ma soprattutto quanto sia importante per gli utenti avere un punto dove poter accedere dove poter confrontarsi e dove poter avere risposte certe. Quindi con oggi diamo una risposta importante per i nostri utenti nella nostra città. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Nel centenario della scomparsa di Giacomo Puccini venerdì debutta al Teatro Petrarca di Arezzo alle 21 il nuovo Gianni Schicchi. Il servizio. Nel centenario della scomparsa di Giacomo Puccini debutta Arezzo al Teatro Petrarca venerdì 27 settembre il nuovo Gianni Schicchi. L'opera comica del celebre compositore toscano torna con una nuova produzione fortemente voluta dal comune di Arezzo in collaborazione con la fondazione Guido d'Arezzo. Il ruolo del protagonista sarà interpretato dal baritono di fama internazionale Mario Cassi. È un'opera toscana, è un'opera in questo caso però diciamo che rappresenta un melting pot di giovani promesse preparate da grandissimi docenti che hanno lavorato veramente da marzo duro per selezionare nove che sono in palcoscenico con me a fare veramente un bellissimo lavoro. Una regia veramente di grande qualità firmata da Manu Lalli in direttore d'orchestra come Fabrizio Carminati con il quale ho il piacere di lavorare da più di 22 anni quindi sono felicissimo di riuscire a portarlo qui ad Arezzo e quindi veramente una emozione, felicità e gratitudine sono veramente le tre cose che mi vengono in mente. Il ritorno dell'opera lirica prodotta ad Arezzo per Arezzo con talenti aretini e questo veramente è incredibile abbiamo veramente un ritrovarsi per dire il preparatore musicale, l'assistente musicale è Andrea Severi assistente di Zubi Meta, al Maggio Fiorentino, al Festival Verdi ci siamo trovati in tutto il mondo con lui è la prima volta che lavora ad Arezzo quindi direi un omaggio secondo me più alla retinità nel mondo che si ritrovano qui a festeggiare Puccini. Apriamo la pagina sportiva tutto pronto per la seconda edizione del Harmony Award Stop Violence il premio organizzato dal Comune di Monte San Savino che venerdì 27 settembre alle ore 21 porterà sul palco del Teatro Verdi sei grandi personaggi legati al mondo dello sport con le loro brillanti carriere e le loro storie di tenacia, impegno e coraggio realizzata con il coordinamento dell'Associazione Premio Semplicemente Donna il sostegno del main sponsor Estra la cerimonia di premiazione sarà articolata da un talk show condotto dai giornalisti Massimo Boccucci e Massimiliano Morelli a cui prenderanno parte due iconici nomi del calcio italiano quali Filippo Galli e Stefano Tacconi ci sarà il giornalista direttore editoriale della Lega di Serie A Lorenzo Dallari la pluri premedagliata campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Carolina Costner l'ex pallavolista Manuela Leggeri oggi membro del team tecnico di Giulio Velasco e l'attuale CT dell'Italia Volley maschile Ferdinando Fefe De Giorge nato con l'obiettivo di sensibilizzare la società civile contro ogni forma di violenza e di discriminazione fuori e dentro il campo la serata teatro sarà preceduta nella stessa giornata di dopodomani dall'iniziativa collaterale Play Together alleniamoci contro la violenza che dalle 16 alle 18 e 30 vedrà Monte San Savino diventare un vero e proprio villaggio sportivo una invasione giocosa in piazza Gamurrini Corso Sangallo e piazza di Monte con centinaia di atleti e atlete di tutte le età accompagnate da tecnici e dirigenti per un totale di ben 18 società sportive provenienti da Rezzo e da tutta la Valdichiana e adesso parliamo di calcio perché dopo la vittoria con il Gubbio gli Amaranto infilano una terza vittoria consecutiva e provvisoriamente balzano in testa la classifica insieme alla Torres ascoltiamo le parole di mister Troisi in sala stampa mantenendo quella mentalità che ricerchiamo tutte le volte dopo le due brutte battute di arresto contro una squadra sono d'accordo che non è semplice al primo tempo siamo stati molto più bravi nei tempi di pressione nel recupero palla abbiamo creato le nostre occasioni molto importanti al di là del rigore concesso abbiamo concesso poco e secondo tempo un po' per questa attitudine dell'avversario e anche per un discorso fisico con qualche defizione di troppo stasera siamo un po' calati però ecco poi è venuta fuori anche lì una grossa solidità e un lavoro di gruppo dove dobbiamo portare avanti insieme ad una personalità che è cresciuta in quelle che sono state le fasi di gioco ho visto giocate più decise ho visto poi si può far bene si può far male però ho visto un'altra attitudine a livello calcistico e questa è la strada perché secondo me abbiamo abbiamo ancora tanti margini per crescere per quanto riguarda la classifica è chiaro che siamo contenti della vittoria siamo contenti anche per come è arrivata stasera con una buonissima prestazione coinvolta e sostenuta dal nostro pubblico da una proprietà che ripeto merita determinate cose per quello che ci sta offrendo però allo stesso tempo ci vuole grosso equilibrio ci vuole grosso equilibrio perché siamo appena alla sesta domenica abbiamo un'altra partita contro una squadra molto forte la classifica è molto corta e quindi per fare discorsi diversi e prematuro non dobbiamo ragionare non sono frasi fatte in questo momento più che mai per partita dopo partita non bisogna mai accontentarsi abbiamo cominciato il campionato da poco ci sono ancora secondo me tanti margini di miglioramento e quindi dobbiamo rimanere equilibrati fiduciosi con questa autostima con questa motivazione e appunto personalità che ho visto stasera con l'obiettivo che questa squadra può crescere ancora tanto avevamo parlato ci vuole del tempo fisiologico di un inserimento di una squadra nuova quindi l'obiettivo di tutti appunto è questo è di creare tra virgolette un nuovo arezzo perché comunque siamo convinti e stasera è stata la prova che abbiamo inserito giocatori il direttore ha inserito giocatori in grado di alzare notevolmente il tasso tecnico e quindi questo mi permette di avere competitività e di avere come stasera in partite così ravvicinate anche la possibilità di alternare quelli che sono i ballottaggi e il minutaggio lo sforzo che richiede questo campionato questo periodo soprattutto che è appena passato ma continuerà con la partita di domenica e quindi è la strada da perseguire e chiudiamo parlando di atletica quinto posto nel salto in lungo per Anna Visibelli nella finale nazionale del campionato di società assoluto su pista l'atleta nata nel 1993 e cresciuta nell'alga atletica Arezzo ha indossato i colori dell'atletica Firenze Marathon nella manifestazione di Modena valida per assegnare gli scudetti dell'atletica leggera dove ha registrato una prestazione di 5,84 metri con cui è riuscita a confermarsi tra le migliori saltatrici italiane e con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata arrivederci grazie a tutti 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 Grazie a tutti.